Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao a tutti, sono Clara e frequento la Facoltà di Scienze Infermieristiche presso l'Università degli Studi dell'Insubrio di Varese. Ho scelto questo Ateneo perché si è sempre distinto per la formazione eccellente in ambito sanitario. Una volta iniziati gli studi, devo dire che le mie aspettative sono state ampiamente soddisfatte, in quanto le lezioni e i vari tirocini sono molto ben strutturati e permettono allo studente di prepararsi pienamente a questa bellissima professione. Inoltre chi è interessato può partecipare anche ad attività extracurricolari come il coro, un'iniziativa stupenda che permette di fare esperienze anche all'estero in un clima amichevole e coinvolgente.